Andrea Festival Leidi, il Festival delle Arti Espressive, giunto alla quinta edizione e organizzato dalla cooperativa sociale Questa Città. Quest'anno il festival, oltre alla sua tradizionale formula, ha previsto anche una tavola rotonda sul tema dell'arte e del teatro sociale. Anna Maria Carella, presidente regionale della Federazione Italiana Teatro Amatori Puglia, si è soffermata sul legame tra teatro e territori. Né un esempio il progetto fondamenta. Marilena Pastore. Teatro e territorio, sembra un binomio quasi forzato, in realtà no, perché appunto la FITA punta proprio alla territorialità dei progetti. Né un esempio fondamenta. Sì, fondamenta è un progetto che la nostra federazione ha vinto con il Ministero delle Politiche Sociali e il Ministero del Lavoro. Si sviluppa in appuntamenti sparsi per tutte le regioni, qui la territorialità a cui facevi riferimento. In Puglia si è svolto nel mese di gennaio a Giovinazzo. Come partnership abbiamo avuto il Comune, chiaramente, di Giovinazzo e la Scuola San Giovanni Bosco, un comprensorio di scuola elementare e scuola media. Praticamente tre giorni di workshop offerti a persone che sono vicine alla disabilità come strumento, usare il teatro come strumento per sostenere. Abbiamo avuto come partecipanti psicologi, assistenti sociali e sempre i giovani che sono in un iter di studi, chiaramente specifico, e hanno tenuto alla fine dei tre giorni di workshop una dimostrazione di questo laboratorio con i ragazzi disabili appunto del comprensorio San Giovanni Bosco Bonarroti di Giovinazzo. Un'esperienza di altissima qualità, devo dire, perché i docenti sono stati scelti tramite bando, hanno presentato un curriculum e hanno poi preparato questi giovani per questi tre giorni. Sono molto soddisfatta perché molto probabilmente, ora vedremo se ci sono le condizioni, lo faremo anche qui ad Andrea con l'associazione che oggi ospita la Tavola Rotonda, in modo da coinvolgere una realtà così attiva qui sul territorio di Andrea.